63 candeline per Banca di Verona, una banca che da anni opera per il territorio portando avanti lo spirito di appartenenza al mondo cooperativo, ai principi della località e del mutualismo e ponendo al centro dell'attenzione giorno dopo giorno il cittadino e la persona. La nostra banca è nata nel 1951 da 33 soci fondatori che erano artigiani, contadini, professionisti. Hanno avuto l'idea di proporre questa banca che si chiamava Cassa Rurale d'Artigiana di Cadi David che a quel tempo doveva servire per aiutare il territorio di Cadi David. Ha 3.400 soci, ha 15 sportelli distribuiti nel territorio di Verona e provincia, conta 15.000 clienti. Con le varie innovazioni che ci sono state siamo in grado di servire sia le medie e piccole industrie e tutto quello che è il territorio, naturalmente partendo dalle famiglie, dai nostri artigiani, da tutto quello che sono le necessità del territorio. Noi rimaniamo quella che è una banca del territorio e direi anche una banca di comunità. Pur essendo una piccola realtà siamo anche tra le prime, la Banca di Verona è tra le prime a livello nazionale, a livello di solidità e questo ci fa onore. Ma come opera nel dettaglio Banca di Verona e perché è una banca differente? Lo chiediamo al direttore Valentino Trainotti. È una banca che intende il proprio modo di agire ancora nella maniera tradizionale raccogliendo il risparmio prevalentemente dalle famiglie e mettendolo a disposizione delle famiglie stesse e soprattutto delle imprese. imprese che rappresentano per il nostro territorio il vero motore di sviluppo. In altre parole è una banca che sente il proprio scopo, la propria ragione di esistere nel sostenere, nell'aiutare le famiglie e le imprese a prosperare. La nostra banca, essendo una banca mutualistica, non ha lo scopo del profitto fine a se stesso, ma crea valore economico finalizzandolo al rafforzamento del proprio patrimonio e con una politica sempre molto attenta ai costi, in quanto noi abbiamo più di 3400 soci verso i quali dobbiamo riversare questo valore economico che creiamo, attua delle politiche improntate su cautela e su prudenza. Una banca trasversale in grado di rispondere alle esigenze di privati, delle piccole, medie e grandi aziende. Una banca che prende e reinveste sul territorio, finanziando e sostenendo anche diversi progetti sociali. In tre anni sono state più di 500 le iniziative appoggiate da Banca di Verona. Mi è stata offerta questa borsa di studio per il diploma della maturità, che mi ha dato l'opportunità di iniziare con questa piccola somma, quello che sarà poi il mio percorso universitario. Tra l'altro ho aperto un conto corrente in questa banca e riesco comodamente a gestirlo tramite un'applicazione che ho scaricato direttamente sul mio smartphone. Ho scelto Banca di Verona perché abbina i vantaggi della piccola dimensione, e quindi la possibilità di una conoscenza diretta con il personale e anche di interlocuire con i vertici, all'erogazione di servizi mirati, anche per chi come me esercita la libera professione. Sono cliente della scorsale di Verona da ormai dieci anni e ho sempre trovato in questi anni cortesia, preparazione e una grande disponibilità. Diciamo che questa banca sul territorio di Cadi David offre ancora un rapporto umano con le persone, con i privati di Cadi David. Ci segue moltissimo anche durante la crescita dell'attività perché se abbiamo bisogno di sviluppare qualche attività in più è disponibile nell'area il loro aiuto e di sostenerci nella crescita. Quindi diciamo che è una banca molto attenta alle esigenze sia delle persone che anche delle attività. Grazie a tutti!